Vivere in modi diversi la nostra città, dando un'anima al territorio che ci circonda. Parte da questi presupposti la riflessione che il Centro di Etica Ambientale si è posto come obiettivo. Invitare ad un esame approfondito per valutare quale sia il rapporto tra uomo e natura, grazie ad una serie di iniziative programmate per venerdì 26 novembre, presentate nella mattinata di questo giovedì nello spazio Viterbi della provincia a Bergamo. Il significato di dare un'anima alla nostra città. La necessità di liberare la bellezza che è dentro le nostre valli, dentro i nostri paesi, nelle nostre città e anche dentro di noi è ormai una priorità. Ci troviamo nella situazione in cui o ciascuno di noi fa la sua parte e soprattutto positivamente si mette davanti ai cambiamenti, alle trasformazioni che il mondo di oggi richiede sotto tutti i punti di vista oppure rischiamo di soffocare dentro le nostre città e nella fatica anche di costruire qualche cosa di positivo. Determinante rispettare lo spazio pubblico al pari di quello privato. Ma sì, questa è una riflessione che abbiamo fatto dentro il tavolo di lavoro. Per un anno ci siamo incontrati e abbiamo approfondito con realtà diverse tutti questi temi. Cioè vediamo come tante volte anche nei nostri paesi, nella nostra città, si usano gli spazi pubblici, cioè le strade, le piazze e quant'altro, come in qualche modo se fosse qualcosa di cui noi siamo proprietari. Cioè possiamo dire così, ce ne freghiamo un po' del fatto che sono spazi pubblici. Cioè non sono solo dei luoghi comuni dove ognuno può andare e utilizzare, ma sono degli spazi che sono riservati all'incontro, alle relazioni, allo stare insieme. Ecco oggi abbiamo per esempio bisogno nel liberare la bellezza dei nostri paesi, delle nostre valli, della nostra città, appunto di trovarci un po' di più, di aprire le nostre finestre, non solo di allargarle per vedere fuori meglio quello che c'è, il paesaggio, ma anche appunto di aprirle e di aprire le porte per incontrare, per uscire noi dalle nostre case. Il Centro di Etica Ambientale, nato a Bergamo nel 2008, si pone come un laboratorio di riflessione, di approfondimento e rielaborazione critica nel campo dei saperi e delle pratiche connesse al complesso territorio, ma anche dell'operare umano in relazione all'ambiente.